Benvenuti alla nostra rubrica leggere liberi. Quest'oggi vi propongo un libro da non fare leggere ai vostri alunni. È un libro per voi adulti, per voi professori, ma in ogni caso un libro che potrà far del bene alle relazioni docenti-alunni. Sto parlando del libro Il segreto del figlio di Massimo Recalcati, un suo saggio di qualche anno fa. Il segreto del figlio, mi direte voi. E che centriamo noi, professori? Vabbè che ormai per tutti siamo missionari, che abbiamo la vocazione, ma anche genitori dei nostri alunni. Ascoltate. Edipo è un figlio segnato dal trauma del rifiuto e dell'abbandono. Il suo carattere impetuoso e iracondo non può certo prescindere da questa sua origine. Non a caso Lacan ci ricorda l'irresistibile inclinazione al suicidio che anima la vita di quei bambini che non sono stati nutriti sufficientemente dal desiderio dell'altro, che sono venuti al mondo cadendo da subito fuori dalla scena del mondo. Un bambino non desiderato, non voluto, non amato dall'altro è un bambino destinato a sperimentare la propria vita come dissociata dal senso, vita sradicata, superflua, priva di valore. Questi bambini vogliono uscire fuori da quel gioco della vita che non li ha previsti, non accettano di essere ciò che sono, non vogliono quella catena significante nella quale non sono stati ammessi che controvoia dalla loro madre. Ne conosciamo nelle classi di questi ragazzi, bambini abbandonati alla nascita, bambini bene che vada adottati da una famiglia amorevole, bambini in casa famiglia, ragazzi che in ogni modo, anche se circondati da cura e d'affetto, a un certo punto vanno alla ricerca delle loro origini, della loro mamma, del loro papà. Ne abbiamo conosciuti e abbiamo sempre cercato di entrare in empatia con loro, di entrare in dialogo con loro, di saperne di più, di capire. Ebbene, recalcati in questo libro attraverso la figura di due figli famosi, Edipo e il figlio ritrovato della parabola evangelica di Luca, ci dice attenzione, ogni ragazzo, ogni figlio, ogni studente, ogni adolescente ha un suo segreto, un segreto insondabile, un enigma dentro il quale nessuno potrà mai entrare. Quindi l'empatia, il colloquio, il dialogo, per carità, benvengano, ma ricordiamoci che rimarrà sempre un lato oscuro, un lato segreto, un lato nel quale nessuno potrà mai entrare. L'adulto allora il genitore, il professore, per l'alunno cosa potrà fare mai? Potrà restare lì sulla soia ad aspettarlo, a aiutarlo, a sostenerlo se è necessario. Ecco il libro di questa settimana, una lettura sicuramente stimolante per noi adulti, docenti, educatori. Bene, grazie, anche questa settimana vi ringrazio e mi raccomando sempre, veniteci a trovare sul nostro sito web e sui nostri canali social.